Il Governo potrebbe ridurre il contributo ai salari per l'emergenza coronavirus dall'80 al 60%. Ad annunciarlo il Ministro dell'Economia, Sanac, che ha definito la spesa per l'emergenza insostenibile nel lungo termine. Il Governo sta spendendo infatti 8 miliardi al mese solo per sostenere l'80% dei salari dei dipendenti e 11 miliardi al mese per NSS. Sono 6,3 milioni di cittadini che stanno suffruendo del sussidio per i dipendenti, ma si arriva a 27 milioni di persone se si considerano tutti i benefit messi in campo dal Governo. Una spesa che a lungo termine potrebbe far esplodere il debito pubblico inglese, con conseguenze disastrose per le casse dello Stato e per i servizi dei cittadini, come appunto il Servizio Sanitario Nazionale. Per questo una riduzione al 60% sembra molto probabile in caso di estensione del periodo di lockdown. Intanto, come denuncia anche il The Guardian, sono già migliaia i nuovi senza tetto che non sono riusciti a rientrare nello schema dei sussidi. Si tratta in maggioranza di lavoratori provenienti del catering che sono stati licenziati prima del lockdown, ma anche durante, perché le aziende hanno previsto di non poter sopportare economicamente il lungo periodo di stop. Persone che non avevano risparmi ed erano al minimo sindacale e che non sono riuscite a mantenere un tetto sulla testa.